Lo schianto terribile, le urla di chi ha assistito al drammatico uccidente, poi il silenzio di una disperazione senza fine. Atterra i segni indelebili della tragedia, la Vespa appoggiata su un fianco a bordo strada, Kevin Gentilin, 15 anni, a pochi metri, senza vita. L'ennesimo uccidente mortale è l'ennesimo studente travolto ed ucciso mentre sta andando a scuola, solo nel Padovano tre giovani vittime spezzate da inizio anno scolastico. Una dinamica ancora al vaglio della polizia stradale di Castelfranco Veneto. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il giovane stesse superando una colonna di mezzi, quando all'altezza della rotonda, con via delle industrie, l'auto, una Fiat Bravo condotta da un 43enne che viaggiava in direzione Vedelago, ha svoltato nel parcheggio di una fabbrica. L'impatto violentissimo non ha lasciato scampo al 15enne sbalzato dalle due ruote. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i soccorsi, l'ambulanza, l'automedica, ma per il 15enne non c'era più nulla da fare. Sulla strada, paralizzata dal traffico, è calato il gelo di uno strazzo impossibile anche solo da immaginare. I genitori di familiari conosciuti in paese per la loro impresa idile si sono precipitati sul luogo della tragedia. Le passioni di Kevin erano la vespe ed il ballo ci racconta con gli occhi lucidi nascosti dagli occhiali lo zio del 15enne. Lui andava a ballare con il nonno tante volte, questa era la passione. E la vespa? E la vespa, sì, la vespa. Ma era un bambino con la testa a posto, non correi, io non l'ho mai visto fare robe strane. Qui si vede esattamente che questa macchina che ha girato non l'ha visto e lui l'ha presa in pieno. Sarà la procura ora a decidere, ma l'automobilista con ogni probabilità sarà indagato per omicidio stradale.